papà è papà mio padre si proprio lui ciao papà ciao come stai bene e tu tutto bene si va avanti che si dice tutto a posto va tutto bene guarda noi siamo orgogliosi di te mi piace questo che tu stai facendo qua dentro un bel percorso che stai facendo però ogni tanto tira fuori gli attributi si no è che mi conosci sai sono comunque non solo verso minimo timido sono molto riservato quindi poi quando vedo determinate cose ma ci manca anche un po male perché comunque per me sono tutte persone speciali qui quindi mi dispiace sempre poi lo so però tanto lo so però ci sono persone con le quali tu devi combattere non vuoi sempre essere gentile la gentilezza non ripaga certo devi essere un po più duro qualche volta comunque noi siamo orgogliosi di te del percorso che stai facendo sei arrivato già un buon punto non mollare adesso non devi mollare ma io sono contento a prescindere del percorso che ho fatto perché comunque qui ho avuto modo di capire tante cose lo so lo so noi ti stiamo seguendo tanto ecco e soprattutto come hai visto ho comunque ripreso in mano un rapporto con adua che per me era molto importante perché era difficile l'abbiamo visto e asento a presto da soltanto asento così e l'abbiamo